Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della Mobilità, le notizie sul trasporto pubblico, due giorni di cantieri in via di San Sebastiano e due giorni di deviazione per la linea 118 in questo fine settimana. Domani e domenica infatti la strada sarà chiusa al traffico per lavori di scavo utili alla rete dei sottoservizi, la 118 sarà deviata in arrivo da Piazza Venezia, percorso alternativo in via Druso e in via delle Mura Latine. Dal 9 al 13 agosto cantiere anche sulla rete idrica di via Ozanam, in questo caso sarà deviata la linea 44 in direzione dei due capolinea di via del Teatro Marcello e di via Montalcini. I bus percorreranno via Jenner, la circonvallazione Gianicolense e via Fonteiana. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.